Oggi, 21 settembre 2021, ricevo un pacco da Aria destinato a mio padre, Lazzaro Renato Pieraccini, deceduto il 19 marzo 2020 per Covid. È stata una delle prime vittime di Covid qui a Firenze. Per favore inquadriamo che la data già indicata è 21 settembre 2021, eccolo qua, inquadriamo che è da Aria a Lazzaro Renato Pieraccini e vediamo cosa conterrà mai questo pacco, cosa manda Aria a mio padre deceduto. La busta è integra, non è artefatta ovviamente, lo potete vedere. Adesso procediamo all'apertura e vediamo che cosa concede. Sempre al tuo fianco, Covid, misure di contenimento del contagio, raccorte e conferimento rifiuti domestici per soggetti positivi in quarantena domiciliare. Ecco, a distanza di 18 mesi più o meno, ci mandano i sacchetti. Quindi, questo è Aria, vediamo ovviamente per far vedere che c'è tutto il necessario. Ecco qua, cosa ci manda Aria a distanza di 18 mesi a Lazzaro Renato Pieraccini, deceduto, lo ridico un'altra volta, il 19 marzo 2020. Grazie a tutti.